e ben a tutti ragazzi noi siamo scendere cannaver io stefano e benvenuti in questo nuovo video ragazzi oggi come avrete visto già dal titolo qui sotto spero che questo video starà su youtube perché è anche una cosa un po' difficile comunque mettete subito un like un bel mi piace ragazzi un bel like quindi andremo a fare un annissimo prank ragazzi un nuovo prank perché ci stiamo prendendo molto gusto siamo veramente ci consideriamo anche un po' i king dei prank infatti i kings dei prank quando scrivete sempre qui sotto hashtag kings dei prank e hashtag devastante prank mi raccomando quello sempre non serve che ogni volta ve lo diciamo lo diciamo fatelo lo sapete ok quindi in pratica andremo a far credere noi abbiamo cominciato a parlare sia con nostra cugina Sara che ormai la conosce e sia con nostra zia non però la zia quella dell'altra volta è un'altra zia ragazzi si chiama zia Maria ragazzi è sempre sorella di nostro padre esatto cioè la sorella cioè in pratica Sara è la figlia del fratello di nostro padre invece questa è la sorella quindi praticamente ha risposto prima Sara e quindi il prank era fatto a lei ragazzi abbiamo già preparato tutto ragazzi adesso vi spiego praticamente siamo andati a modificare una pagina di Amazon esatto ragazzi perché noi sappiamo quel sistema di modificare le pagine quello stesso che abbiamo usato il prank ai nostri genitori esatto quindi abbiamo modificato per bene una pagina di Amazon in modo molto realistico ragazzi praticamente abbiamo fatto finta modificando la pagina in realtà abbiamo solo preso questa cosa e l'abbiamo messa nel carrello ma abbiamo fatto finta che l'abbiamo proprio acquistata esatto ragazzi praticamente per il compleanno di Stefan lui voleva acquistare un iPhone XR esatto ragazzi quello rosso ragazzi eccezionale se non lo sapete ragazzi quello è proprio il telefono che ho sempre sognato di avere perché è troppo bello però costa veramente tanto costa sui 600 euro anche 1000 o 500 quindi devo dire che costa molto e non l'ho mai comprata ma invece in questo video faremo credere che io l'ho comprata per il mio compleanno capito ragazzi quindi proprio un prank incredibile ragazzi ok quindi senza perdere tempo poi vedrete tutto esatto cominciamo subito ragazzi ok via quindi adesso metterò il registrato così vedrete qui sempre la schermata del telefono Unimark eccolo ragazzi eccolo qui ragazzi vedete quindi andiamo subito su whatsapp intanto vi facciamo vedere cosa gli abbiamo già scritto quindi abbiamo scritto semplicemente ciao San ciao tutto bene risposto sì benissimo perché ragazzi sia perché ci sono aumentati gli iscritti ma ci siamo inventati questa scusa e sia perché Stefano ha comprato il suo bellissimo iPhone in 6 esatto ragazzi sì ottimo sono successe due cose belle e adesso gliele dobbiamo andare a dire quindi Marco volendo glielo dirà diciamo vocalmente sarebbe meglio io non so sì va bene ok localmente quindi non vedrete per un attimo qui la schermata come sempre ok ragazzi quindi adesso toglierò il registratore esatto torto e andremo a dire vocalmente quindi sì perfetto ciao Sara praticamente sono successe due cose belle nel senso che la prima cosa è che siamo arrivati a 168 iscritti quindi siamo aumentati un po' e quindi ci stiamo avvicinando ai 200 e sono molto contenti cioè siamo molto contenti e poi un'altra cosa che questa è una cosa un po' che abbiamo fatto un po' azzardata un po' strana però l'ha deciso Stefano io sono d'accordo con lui niente in pratica e noi abbiamo in pratica abbiamo in comune con il nostro padre l'account di Amazon e quindi siamo andati ad acquistare con i nostri la nostra parte di soldi però sono andati ad acquistare un iphone xr rosso pensa un po' però il problema è che nostro padre non lo sa quindi gli vogliamo fare una sorpresa un po' azzardata un po' pericolosa però niente te lo volevo dire ok ragazzi perfetto eccellente quindi ho detto in modo molto realistico ragazzi quindi poi dopo ovviamente se dice no non ci credo voglio vedere la foto noi ragazzi andremo a mandare la schermata dove si vede proprio che c'è scritto acquistare anzi la facciamo vedere anche in video così vede che si muove l'immagine che non è diciamo un'immagine modificata con photoshop o con zimp quindi diciamo ci caschiamo ragazzi ok vediamo un po' se visualizza se rispondo adesso rimetto la registra esatto si vedete qui ragazzi il messaggio che ha mandato Mark voglio dare aspettiamo non so che no ragazzi adesso stiamo aspettando che risponde praticamente stavo pensando di riprendere la schermata della che abbiamo modificato con il mio telefono e poi con il registratore vedrete la ripresa esatto ragazzi è bene quindi niente ci vediamo a tra poco ok ok ragazzi eccoci qui praticamente come potete vedere abbiamo mandato la foto esatto della schermata adesso ve la facciamo vedere lo facciamo vedere come è modificata sembra proprio che l'ho acquistata lo potete vedere è scritto al posto di mentre prima c'era scritto qui sopra al posto di resi e ordini c'era scritto carrella adesso ci abbiamo sostituito resi e ordini poi come potete vedere che abbiamo tutto modificato l'ho scritto acquistata arriverà il 20 ottobre 2020 esatto tra 5 giorni ragazzi quindi è tutto che è anche realistico è tutto molto veritiero ragazzi quindi credo proprio che ci cascherà perché abbiamo fatto molto bene ora gli manderemo addirittura un video dove si chiede proprio che la schermata si muove e che non è un fotomontaggio ok va bene ragazzi siccome adesso non risponde allora e non è neanche online allora proviamo a far video chiamare esatto ragazzi si marca e gli dirà tutto adesso disattivo un attimo ok ragazzi speriamo che adesso visualizzi e gli scriviamo e non ci credo e non ci credo questa è una pagina ok ok è online oh perfetto ragazzi ha visualizzato vediamo cosa dice ragazzi sono curioso regoloso se qualcosa costa più di me di voi due messi insieme madonna allora c'è cascata ragazzi incredibile c'è cascata in pieno per gli iscritti si perfetto ragazzi quindi veramente c'è cascata in pieno e niente sono contento che ci sia cascato adesso quindi gli andremo a mandare addirittura al video e gli diremo anche il suo prezzo che sarebbe poi mi sembra 619 euro sui 600 euro quindi ok ragazzi sui 1000 euro no questo costa 600 euro ok perfetto ragazzi inviato ok mezza quanto ha scritto e poi devi sapere come vai in un caso dove arrivare a questi del genere soprattutto se vedi in fondo non è un'altra ma ragazzi è cascata c'è cascata proprio in pieno non penso a niente ok ok allora allora miseria che è calata perché è appena uscito questa roba infatti si lo so e questo è proprio vero costa realmente si è vero ragazzi costa realmente così non è assolutamente un prank a voi cioè se voi rigirate iPhone XR iPhone X o addirittura adesso ragazzi se non lo sapevate è uscito l'iPhone 12 pensate è uscito e quindi non nominiamo una cosa che sappiamo però comunque ma è infatti no perché c'è uno youtuber che l'ha fatto finta di averlo comprato vabbè però non lo nominiamo comunque noi siamo veramente dei suoi fan è molto simpatico però comunque non vi nominiamo il suo nome magari non so se lo vino non è d'accordo comunque che dire gli iscriviamo adesso sì ok quindi sta scrivendo che cosa possiamo fare adesso se lei non insiste che senso infatti già c'è anche il tuo che mi auguro non ho fatto ma continuiamo a parlare diciamo che ti guardo pure gli mando pure un messaggio che non è una curiosità come me avete preso l'iPhone poi gli dici perché Stefano è innamorato dell'iPhone mi piace molto da sempre infatti questo è vero ragazzi voi non lo sapevano che questo è vero quindi diciamo anzi io lo dico vocalmente quindi leviamo un attimo qui la schermata vai ecco ragazzi praticamente Stefano ha deciso di prendere questo iPhone perché il suo telefono preferito gli è sempre piaciuto e quindi per fare diciamo una sorpresa sia al nostro padre che a tutti gli iscritti e anche a se stesso perché è stato il suo compleanno ha deciso di comprare questo iPhone che è pure scalato di prezzo lui aveva molti soldi quindi niente madonna ragazzi la cosa è troppo veridiera non potrei mai pensare a comprare cioè la cosa è troppo veridiera c'è tutto ma fa pensare che lo potevo fare comunque ragazzi adesso vi dico la verità non mi compro l'iPhone XR però un regalo da solo me lo faccio perché come sapete ragazzi vabbè forse non lo sapevate mio padre mi ha regalato per il compleanno solo 50 euro non mi ha fatto proprio un regalo materiale diciamo che si compra perciò ragazzi io con quei soldi mi dovrò comprare non l'iPhone XR ma un altro telefono che mi piace veramente sempre tutto rosso però costa solo 229 euro mica 600 ovviamente ragazzi però comunque è bellissimo lo Xiaomi Redmi Note 8 però pensate ragazzi quello pro quindi bellissimo ragazzi e niente adesso sta scrivendo e niente questa è un'anticipazione eh sì ok beh sono contenta madonna ragazzi è troppo divertente cioè quando funzionano così i prank è troppo bello troppo quindi ragazzi come vedete ha scritto ah ecco ok beh sono contenta quindi ci sta cascando in un modo incredibile ragazzi proprio in pieno non potrà mai pensare che un prank ok ragazzi eccoci qui abbiamo scritto anche noi siamo contenti e abbiamo deciso una cosa come finire questo bellissimo precisamente l'ho finita l'ho decisa io proprio che stanno diciamo festeggiando diciamo ossia andremo andremo a chiedere se possiamo videochiamarla esatto per fargli vedere questa cosa come l'abbiamo acquistato esatto come è fargli vedere il prezzo preciso ci inventiamo così e poi in realtà per farglielo vedere sì per fargli vedere proprio che che la schermata è fatta bene è proprio vera e poi l'aggiorneremo e lei dovrà capire che cosa c'è di strallica e gli diremo che è un prank ragazzi quindi perfetto ora gli andremo a chiedere se possiamo videochiamarla e poi boom ragazzi che prank siamo proprio ok Sara ti volevo chiedere una cosa ma siccome ti vorremmo far vedere la pagina sia per farti capire che è proprio vero che anche per per fartela vedere così per farti vedere alcune cose di questo iPhone niente quindi ti possiamo videochiamare ok perfetto ragazzi inviato e adesso vediamo che rispondere sicuro dirà certo sì potete e quindi vi faremo anche salutare youtube rivedrete la nostra cara cuginetta Sara e niente beh in realtà dovrei chiamarla cuginona perché è più grande di noi ha 20 anni credo quasi 21 ok ragazzi ha scritto una cosa un po' lunghietta esatto ora andremo a leggere no ma tranquilli lo conosco come telefono personalmente non mi piace molto stranamente perché stupendo appare sono un amante dell'iPhone preferisco andrò comunque in questo momento ha un po' da fare quindi purtroppo non posso ragazzi adesso come facciamo il video che non vabbè dai digli una cosa veloce dai una cosa veloce vabbè io andremo a dire una cosa vero ok ok ragazzi inviamo quindi praticamente voi non la vedete ma davanti allo schermo che adesso ci sta riprendendo c'è una telecamera qui esatto qui c'è una telecamera che noi la faremo partire la registrazione quando esattamente lei vedrà lo schermo esatto ragazzi mentre lo giriamo gli facciamo vedere io per esempio lo farò partire e quindi si vedrà la schermata che lei aveva ma ragazzi perché siamo così bravi prepariamo tutto nei minimi dettagli siamo proprio i king di rank ragazzi ragazzi per questo video vi chiedo una marea di mi piace dovete proprio distruggere il tasto di mi piace mi raccomando ragazzi sì alla fine del video decideremo quanti mi piace forse anche questo 100 alla fine ci dovrà arrivare fino adesso nessuno che abbiamo detto che doveva arrivare al 100 ci è arrivato però comunque è arrivato un bel po' di like va bene comunque comunque molti like ragazzi fatevi arrivare più like che potete mi raccomando ok però se non risponde la videochiamiamo io chiamiamo a diretta allora ragazzi ci rivediamo dopo un taglio un bel po' lungo perché praticamente abbiamo provato in tutti i modi possibili voi non vi immaginate a farle vedere che è un prank a Sara ma c'è stato un problema praticamente non ha mai risposto non ha mai visualizzato perché non c'è niente da fare che ci è impegnato non si capisce che starà facendo abbiamo provato tutti i videochiamati a scrivere e riscrivere c'è niente da non deve sapere che è un prank non possiamo finirla così che si pensa non c'è neanche tanto gusto il gusto sta quando lei capisce la sua reazione quello diciamo tutto quello che va a fare da quello lo scopo vabbè noi riproviamo a videocamarlo l'ultima volta esatto dopo di che altrimenti se non risponde finiamo così il video lo decido lo finiamo così e quando lo vedrà risponderà e poi magari riprenderemo la sua reazione più in là comunque il prank ha funzionato benissimo c'è cascata pure troppo se pensa a loro che è vero quindi ragazzi il prank è funzionato quindi se adesso non risponde ragazzi purtroppo la reazione non la vedrete in questo video qui ma la vedrete in me gli devo fare un video a parte non ho scritto la reazione di Sara il nostro prank dell'iPhone e Zer niente quindi niente ragazzi quindi non ci può funzionare sempre bene perché voi se l'avete capito li facciamo veramente i prank non sono per niente organizzati lo giuriamo proprio veramente ragazzi perciò non possono sempre funzionare alla perfezione perciò ok proviamo ma ha visualizzato ragazzi è incredibile alla fine adesso ha visualizzato no alla fine sembrava che ragazzi sembrava che ormai c'era più speranza vedete ragazzi c'era più speranza invece adesso alla fine proprio a visualizzare quindi adesso in teoria io dovrebbe aver visto questo video quindi dovrebbe capire aver capito il prank speriamo ragazzi è online visualizzato in tutti i modi per fortuna alla fine ragazzi l'abbiamo spuntata come sempre quindi state ragazzi ci sarà un'aria adesso stiamo riprendendo vediamo qual è la sua rire poi se magari riusciamo anche a videochiamarla un attimo direi meglio infatti non so se lei accende rispondi cosa sta vedendo il video cosa adesso non mi rispondo ecco ecco sta scrivendo oddio ragazzi incredibile vediamo che dice ok ok d'accordo ok d'accordo ma forse ne risponde non lo so se ancora accade o che non prende non lo so non lo so non lo so è che non lo so non lo so non lo so non lo so è Va bene, va bene, dai, vi mando Salute Non l'avete visto il video Qui bene, ragazzi, quindi speriamo che questo video vi sia piaciuto Che l'avete seguito tutto Ma alla fine vi siete divertiti Avete apprezzato il nostro montaggio che abbiamo fatto E se siete arrivati a questo punto del video Mi raccomando scrivete qui sotto nei commenti sempre Hashtag KimisDeiPrank e hashtag DevastantePrank Mi raccomando, ragazzi Quindi niente che dire Ci vediamo un prossimo video Forse è il video dove farò vedere il mio nuovo telefono Beh, quello forse è un po' più dopo Però ci sarà anche un video dove farò vedere il mio vero, nuovo telefono Che sarà proprio questo Xiaomi, rosso, molto bello Che mi voglio comprare per il regalo del mio compleanno Questo video potelo arrivare sempre con il tempo a 100 like Esatto, ragazzi, se ci riuscivi Mi raccomando, usate tutti gli account possibili per mettere like Per iscrivervi, questo ovviamente ve lo dico sempre perché è importante Perché se a voi veramente vi piace il nostro canale vi interessa Cosa che molti di voi credo per sia così Dovete provarle tutte per iscrivervi Per mettere la video E poi anche perché vorremmo arrivare anche a 200 iscritti Ci farebbe veramente molto piacere Quindi se potete fateci arrivare Niente, vi salutiamo Vi salutiamo quindi al prossimo video Ciao ragazzi Ciao 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 Grazie a tutti.